Cosa c'è per cena? Con la cena freestyle potrai mangiare quel che ti piace di più, dovunque e a qualsiasi orario. Potrai scegliere tra le tante proposte di ristorazione incluse, come ad esempio una cena di 5 portate nei nostri ristoranti principali, un hamburger con patatine al bordo piscina, oppure dei piatti freschissimi, preparati su ordinazione nel Garden Café. O magari volessi gustarti qualcosa di completamente nuovo, in uno dei nostri ristoranti di specialità con dell'Haute Cuisine da tutto il mondo. Esistono tantissime possibilità a bordo, potrai mangiare ogni giorno della tua crociera in un altro ristorante. Prova una cena teppanyaki, entusiasmante con la tua famiglia. Oppure che ne diresti di una cena romantica nel Keny's, la Steak House di Norwegian Cruise Line per eccellenza. Qualunque cosa desiderassi, spetta a te scegliere. Quando hai la libertà di fare ciò che più desideri, allora è Freestyle Cruising.